Il 2018 non è solamente da ricordare per il fatturato ma anche per i progetti, progetti che abbiamo svolto con professionalità e con creatività. I progetti sono tantissimi, i lavori da ricordare cercheremo di sintetizzarli il più possibile magari per aree. Inizierei con il Jameson Bot per il Pernod Ricard che è un lavoro divertentissimo e anche a nostro parere intelligente di un finto bot che andava a ingaggiare su Messenger i vari clienti scherzando e prendendoli in giro per dare un messaggio abbastanza profondo e serio che era quello di attenzione all'alcol perché se esiste l'intelligenza artificiale con un bicchiere in più ci vuole poco ad avere la deficienza reale. Questo è solamente uno dei progetti social e digital che facciamo per Pernod Ricard per cui facciamo un lavoro a 360 gradi quindi un lavoro omni-channel. L'altro progetto di cui siamo orgogliosissimi è l'involontario, una webserie, un branded content che è andato in onda su mtv.it e sul Corriere. Un progetto realizzato per officine buone con il supporto di Fondazione Cariplo. Un progetto di branded content che va veramente al di là della pubblicità. Notizia ultima e ha vinto il Roma Web Fest come migliore serie italiana, migliore comedy e anche come migliore attrice con Giulia Penna. Anche il lato eventi ci ha dato grandi soddisfazioni, diversi sono stati i progetti vincenti, in particolare vogliamo ricordare quello per Eni Gas e Luce. Evento che abbiamo realizzato durante il Salone del Mobile e stiamo già lavorando al nuovo fuorisalone con progetti innovativi che presto vedranno la luce. Ho fatto sì una lista di progetti, un elenco anche di media, ma la verità è che per la conversione e per l'obiettivo che abbiamo di connettere sempre di più i vari touch point, ogni lavoro che abbiamo fatto, ogni progetto, ogni pensiero nasce da un concept sempre forte e poi ha avuto una declinazione nella fattispecie dei vari media che vanno a ottimizzare ogni singolo centesimo, ma ogni modo di ingaggiare i clienti. Per il 2019 la parola d'ordine è convergenza. Tutti i brand sempre di più cercheranno di far convergere i loro touch point attraverso una strategia e con delle idee creative forti. Come conversion è preparata questo, dalla sua nascita l'agenzia è sempre stata focalizzata su unire tutti i touch point rilevanti per un brand con una strategia e un'idea creativa forte e una delivery all'altezza dei progetti. Questo significa che noi spingiamo verso questa convergenza per far aumentare il risultato di business del cliente con questo approccio omnichannel rivolto alla conversione.